5 1 vai sinistra 2 in 2 tempi per destra 2 lunga 20 destra 3 in sinistra 2 lunga apre 20 destra 3 per sinistra 2 30 sinistra 4 per destra 4 per sinistra 4 20 al palone sinistra 3 per destra 4 lunga chiude 2 intornante sinistro non tagliare per destra 2 per sinistra 3 chiude 2 30 destra 3 attenzione al muretto sinistra 3 subito sinistra 2 apre in destra 3 apre per sinistra 3 per destra 3 attenzione al muretto apre in destra 4 in destra 4 finirà il tornante sinistro in destra 3 in sinistra 3 subito tornante dentro destra 3 per sinistra 3 accenno destro subito sinistra 2 corta per destra 2 30 affinerà il sinistra 2 apre subito destra 3 finirà il tornante sinistro destra 4 per destra 3 per destra 2 e arrai il tornante sinistro apre 20 destra 2 per sinistra 2 apre per destra 2 apre per sinistra 3 arrai il tornante sinistro sinistra piena 50 la siepe destra 2 sinistra 5 per destra 3 e subito sinistra 3 apre 4 3 sporco apre 4 ok per destra 2 arrai il 30 vuoto sinistra 3 20 destra 2 per sinistra 3 chiude 2 lunga in sinistra 3 apre 20 destra 4 non tagliare arrai l'attenzione destra 4 per sinistra 3 20 destra 3 apre sporco in destra 2 occhio al muretto per sinistra 3 per destra 3 in sinistra 3 e subito destra 3 stai sinistra arrai il destra 3 sconnesso stai destra sinistra 3 lunga apre ma stai a sinistra per destra 4 100 affinerai il basso sinistra 4 per destra 4 per sinistra 5 per destra 5 per destra 4 per sinistra 4 e destra 5 doppio dalla roccia sinistra 5 50 arrai il sinistra 3 apre destra 5 50 destra 5 arrai il sinistra 3 30 stai destra attenzione tornante sinistro destra 4 apre 50 destra 5 per sinistra 5 per destra 5 per destra 5 destra 4 lunga 30 ritarda destra 2 sinistra 4 diventa subito sinistra 2 lunga 50 stai destra sporco sinistra 4 subito destra 3 lunga attenzione non tagliare apre lunga per sinistra 4 attenzione sassi 30 affinerai lì in fondo sinistra 3 chiude 2 50 per sinistra 5 per destra 3 subito sinistra 2 non tagliare buco 70 in destra 5 arrai dai sinistra ritarda molto fino al giallo tornante destro sinistra 5 50 stai sinistra alla casa destra 5 per sinistra 5 50 arrai sinistra 3 corta per destra 2 per sinistra 3 per destra 3 per sinistra 3 in due tempi 50 le rocce sinistra 4 20 attenzione destra 2 stretto per destra 3 spogliato per sinistra 4 sporco rocce 30 le rocce sinistra 4 meno per sinistra 3 per sinistra 4 per destra 5 20 destra 5 acqua 30 rosso sinistra 2 apre molto sporco per destra 2 per sinistra piena 70 al muretto destra 4 doppia sporca in sinistra 3 sporca in sinistra 4 50 sinistra piena 50 acqua al piantone destra 3 su ponte scivola apre per sinistra 5 destra 5 sinistra 4 sporco destra 4 acqua 30 sinistra 3 30 alla pianta sinistra 2 apre 50 sinistra 4 e destra 3 sporca non tagliare per sinistra 4 sporca e piantone tornate a sinistro sporco per destra 5 per sinistra 4 non tagliare per destra 3 chiude 2 apre 50 sinistra piena 70 sinistra 5 per destra 4 per sinistra 5 alle piante bianche destra 4 50 sinistra 5 50 alla casetta sinistra 4 per destra 4 meno in sinistra 3 molto sporco non tagliare scivola in destra 5 per sinistra 5 30 molto sporco sinistra 3 alle rocce lunga per destra 2 non tagliare in sinistra 2 lunga per destra 3 in 2 tempi in sinistra 3 lunga molto sporca 20 tornate destro 30 al vuoto sinistra 2 attenzione corta per destra 3 lunga in sinistra 3 chiude 2 occhio chiude 2 ascoltami eh 30 destra 2 apre per sinistra 3 per destra 3 in sinistra 4 30 al vuoto ritarda tornante sinistro lui intanto non ti sente quindi ah no cazzo i commissari dovrebbero farlo sto lavoro però 30 destra piena in destra 5 20 al pini sinistra 3 in sinistra 4 e subito destra 2 lunga per destra 6 100 alle betulle tornante sinistro apre 3 100 destra 6 al cartello attenzione ok tranquillo attenzione sinistra 4 meno subito destra 4 per sinistra 6 a fine ride sinistra 2 30 tra sinistra ritarda tornante destro c'era la ghiaia in uscita destra piena 30 a fine ride destra 3 50 a fine ride tornante sinistro sporco in destra piena 50 sinistra 3 ritarda tornante destro per destra 4 per destra 4 apre tornante sinistro in destra scollina 50 molta attenzione sporco dai sinistra 20 alle piante sinistra 3 sporco apre alle rocce 20 ritarda tornante destro 30 destra 4 per sinistra 3 sporco attenzione 50 destra 3 in due tempi apre 4 20 sinistra 4 50 al cartello rovecio destra 4 30 e a rail destra 3 apre per sinistra 5 50 le rocce a sinistra 4 per destra 4 attenzione alle rocce a fine ride destra 4 chiude 3 in sinistra 3 apre lunga 4 apre 4 lunga 30 sinistra 4 per destra 5 30 finirà il destra 4 apre finirà il sinistra 3 apre 30 a rail destra 5 per sinistra 5 in due tempi alle rocce destra 4 chiude 3 30 sinistra 3 stretto per destra 4 in due tempi attenzione in sinistra 3 non tagliare buco apre 50 sinistra 5 a rail attenzione destra 2 30 sinistra 4 50 stai destra sinistra 3 meno 30 in sinistra 4 stai destra 50 sinistra 5 vuoto attenzione destra 3 chiude 2 50 50 cazzarola le rocce sinistra 4 per destra 4 chiude subito sinistra 2 attenzione 30 sinistra 4 non tagliare a rail destra 3 apre in destra 5 50 alla ringhiera sinistra 4 chiude 3 non tagliare per destra 4 alla siepe destra 4 chiude in destra 5 50 la siepe sinistra 3 apre 4 50 alla casetta destra 5 per sinistra 5 in due tempi 50 stai destra sinistra 5 30 staccaforte tornante sinistro destra piena 50 ai paletti e che cazzo destra 5 subito destra 3 ai paracarri vai attenzione 70 sinistra 5 a rail 4 chiude 4 alla siepe ok bravo dai